La fiabestra di Mena Ferrara Uatta Edizioni L'altalena continuava ad ondolare nel giardino della scuola, dopo che una forte raffica di vento l'aveva spinta in aria tra nuvole di foglie rosse. Il cigoglio della catena arrugginita dava il ritmo ai suoni che giungevano dal ramo di gelso, posto al lato del muro di confine a cui l'altalena era legata. La fiabestra appoggiò la borsa accanto al tronco, sollevò la sagona di lana colorata lavorata all'uncinetto e saltò sull'altalena facendosi cullare dal vento che creava la spinta vigorosa delle sue gambe. Amava sentire l'aria fredda entrare nel naso e il vento che le arruffava i capelli, sempre in disordine come i suoi pensieri. Qualche giorno prima la sagona era rimasta impigliata nell'anello che congiunge il sedile alla catena e le si era in parte sfilata, provocando così un buco proprio sul sedere che aveva poi rattoppato con uno dei suoi fular variopinti. La sua borsa armadio libreria era una vera e propria casa viaggiante. Lì potevi trovare spile da balia, uncinetto, aghi e cotone, gomitoli di lana riciclata, forbici e un piccolo telaio per ricamare. Con questi la fiabestra cuciva abiti per peluccia abbandonati oppure realizzava coperte per gatti solitari, sciarpe per tartarughe, guanti per lucertole e berretti per i bachi. Ciro Da dietro ai vetri della finestra Ciro guardava alla scena sghignazzando. Conosceva quel rito mattutino della fiabestra, qui assisteva dando colpi di scopa, prima sulle mattonelle del pavimento poi direttamente sulle sue scarpe. Dopo essere scesa e aver dato una sistemata al cappello di velluto rosa, la fiabestra attraversò il diale e giunse davanti alla porta d'ingresso. Si attaccò al filo della campanella, cominciò ad agitarlo nell'aria e attese il collaboratore scolastico. Ciro era un omino paffuto, con due occhi così piccoli che sparivano a ogni sorriso. Il camice grigiastro, di due misure in più, gli arrivava fin quasi sotto i piedi, donandogli a ogni passo un portamento da pinguino. Era nella scuola di Tiriti da tantissimi anni. Tutti gli studenti che erano passati di là, ma anche solo per pochi mesi, ne conservavano un buon ricordo e spesso tornavano per salutarlo. La sua specialità era raccontare barzellette. Ne conosceva malapena un paio, ma vi era talmente affezionato che le ripeteva con ossessiva precisione, vivendo gli stessi gesti e facendo le stesse pause ad ogni battuta. Ai bambini divertiva quel modo strampalato di fare e ridevano come matti, anche se in realtà conoscevo ogni singola sillaba delle storie. Erano affascinati dalle parole che pronunciava in dialetto, termini come munnezza, al posto di spazzatura, soliticavano la loro fantasia. Da quando la fiabestra aveva avuto l'incarico di portare il suo libro fiabestrico in quel remoto villaggio, Ciro aveva smesso i panni del narratore seriale di barzellette per vestire quelli di investigatore. Era convinto che la signora dei conti, come l'aveva definita parlando di lei e la direttrice, fosse una strega. Forse era rimasto molto colpito da quella volta in cui la vide arrivare sul monopattino a motore, prima di pegarlo e infilarlo dentro la sua grande borsa e raggiungere i suoi alunni. Quel monopattino era davvero particolare, dal tubo di scappamento uscivano grossi popcorn. Per alimentarlo infatti la fiabestra usava soltanto il gran turco. Chissà come fu, ma da quel momento, ogni volta che la fiabestra utilizzava i più semplici degli oggetti, Ciro ripeteva. Fiabbe, sta sempre là o si è trasformato? Mentre lo diceva, tirava fuori dal taschino del camice un accendino giallo, che accendeva agitando la fiammella nell'aria mo' di spada. I tiritesi A Tiriti la vita scorreva senza grandi entusiasmi. Gli abitanti del villaggio erano per lo più giardinieri, custodi dei Morus Alba e Morus Nigra, alberi che producevano i gelsi piantati lì da chissà quanto tempo. Non erano quei frutti dolcissimi a interessare i tiritesi, ma le foglie grandi di cui erano ghiotti bacchi da seta. Tutti li allevavano con molta cura e dedizione. Il filo resistente e sottile, che se ne ricavava per tessere stoffe pregiate, teneva unite le famiglie e scandiva le loro giornate. Prima di arrivare a scuola, la fiabestra faceva lo slalom fra gli alberi con il suo monopattino, salutava i giardinieri, dava un'occhiata ai bozzoli, abbracciava l'albero più secolare, poi sgommava, formando nell'aria cerche di popcorn dentro i quali svaniva. Anche i tiritesi si erano fatti strane idee su di lei. Quelli che avevano figli in età scolare si dicevano così preoccupati, da interrogare ogni volta i bambini sulle storie che a scuola narrava, tenendo in mano un librone variopinto. Una volta a scuola scoppiò il putiferio, perché la fiabestra aveva raccontato in classe la storia di Sia, una bambina conosciuta in Siria, che non aveva l'acqua corrente, e per questo ogni mattina, insieme ai fratellini e gli altri bambini del suo villaggio, andava a piedi fino alla sorgente, percorrendo circa tre chilometri attratta, per riuscire a portare l'acqua a casa e potersi così lavare. A bambini piacque così tanto quella storia che voler organizzare un gioco proposto dalla fiabestra, andare fino al puzzo del villaggio usato per irrigare i campi, prendere un secchio d'acqua a testa, arrivare al grande gelso, issare con una funia il secchio sul ramo e farsi la doccia tutti insieme. Fu un vero spasso. Quel giorno i bambini tornarono a casa felice e bagnati, facendo attenzione a centrare in pieno anche tutte le pozzanghe rincontrate lungo il loro cammino, visto che alla doccia collaborativa si era unita anche una fitta pioggia. Le mamme si arrabbiarono così tanto da voler addirittura cacciare la fiabestra della sua amata scuola. Le uniche persone che desideravano ascoltare i suoi stravaganti racconti erano le bambine e i bambini. I grandi, invece, erano troppo occupati a leggere e ascoltare storie trite ritrite, tramandate di generazione in generazione. La classe della fiabestra Dopo aver asciugato le suole dei suoi stivaletti, la fiabestra si accovacciò per allacciarli e abbellirli con i numerosi ciclamini che coltivavano i tacchi serra. Dopo aver attraversato a grandi falcate il lungo corridoio, annunciò alla classe il suo arrivo con un fischio. Gli alunni a quel segnale uscirono subito dall'aula e al corso l'incontro, come facevano il mercoledì, giorno fiabestrico. Tutti aspettavano con emozione di potersi tuffare magicamente nei suoi affascinanti racconti. Alcuni alunni della sua classe, i più immaginosi, avevano costruito un gioco con i tappi di sughero. Su ciascuno di essi c'era un numerino, abbinato ai personaggi conosciuti attraverso i racconti della fiabestra. Ogni volta che entrava in classe, i bambini e le bambine estraevano a sorte un tappo dal cestino di vini e attendevano impazienti di ascoltare la storia abbinata. Contavano in coro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dalla borsa fiabestrica ogni volta uscivano tappeti rossi, viola, azzurri e numerosi cuscini di macramè. I bambini li adagiavano sul pavimento, poi ci si sdraiavano sopra come se fossero delle sfoglie di lasagna. Chiudevano gli occhi per qualche istante e attendevano impazienti il racconto delle storie. I conti della fiabestra Carmen. Carmen, vibrante, era una giovane fiabestra zingara andalusa, molto amica degli usignoli. Trascorreva le giornate a riprodurre le loro melodie, con le quali accompagnava gli spettacoli teatrali che presentava nelle feste di piazza. Con le sorelle e le colleghe fiabestre raccontava la storia del suo popolo girovago e della loro speranza di trovare un luogo in cui vivere pienamente liberi. Recitavano, cantavano e ballavano il flamenco. Sotto il sole caldo dell'Andalusia si spostavano sui carri con il telo colorato, formando una lunga carovana. Quando i bambini scorgevano in lontananza la polvere e la sabbia, sollevate dalle ruote dei carri, lasciavano i giochi e correvano incontro a quelle stravaganti e divertenti donne, festeggiando il loro arrivo con urle e risate. Carmen guidava il primo carro e si distingueva per la sua gonarancione a pua viola. Portavano sempre abbondanti scorti di cibo che condividevano con tutti i bambini. La sera, dopo lo spettacolo, accendevano il fuoco, si addormentavano nei sacchi a pelle e sognavano intensamente nuove canzoni, danze e melodie. I conti della fiabestra Il forminchio 2 Una volta, a Pestum, mentre rivestiva il colonne del Tempio di Nettuno con il bisso regalato le da una sirena del golfo, la fiabestra notò in una crepa qualcosa che si muoveva. Lasciò la seta del mare nei tentacoli della polpessa a suo aiutante, infilò le dita per rafferrare e, quando le tirò fuori, vide un granchio aggrappato con le chela al suo pollice che la supplicava di aiutarlo. Il granchio violinista le raccontò di essere arrivato dall'Atlantico a bordo di un veliero. Durante la traversata aveva stretto amicizia con molti altri animali, ospiti come lui dell'imbarcazione. Una volta sbarcati si era perso, ma grazie all'intervento di un gabbiano aveva trovato ospitalità fra i templi. Era lì, in cerca della formica di cui si era imbaguito, ma non riusciva a trovarla tra le centinaia di fessure e condominio. In quel momento la fiabestra decise di alzare una leva della macchina fotografica, che usava l'occorrenza come bussola radar. Impostò la ricerca e iniziò a seguire il percorso. Pochi istanti dopo, come per magia, si ritrovarono a casa della formica, bevero un caffè, mangiarono alcune briciole di pastiera. Dopo qualche mese da quel bizzarro banchetto, fu invitata alla festa per la nascita del primo formicchio. I conti della fiabestra. 3. La balusa. Sulla spiaggia di Stromboli la fiabestra incontrò una balena e una medusa. Entrambi stavano scappando da un acquario, ma non riuscivano più a ritrovare la strada di casa. Alcuni mesi prima erano state rapite da due brutti ceffi per poi essere vendute ad un famoso proprietario di acquari. Le due amiche raccontarono di sentirsi divisa metà da quando erano diventate lo spettacolo vivente di frotte di umani, che ogni giorno pagavano il biglietto per vederle rinchiuse dentro enormi scatole di vetro. Balene e medusa avevano tentato in qualche modo di sopravvivere dentro l'acquario gigante, nuotando freneticamente da una parte all'altra della vasca per non provare nostalgia di casa. La balena e la medusa sognavano ogni istante il mare aperto. Intrestita dal loro racconto, la fiabestra tirò fuori dalla borsa la supercolla Dudu. Con quella rimise insieme le due metà ancora vive di balena e medusa per far nascere una strana e potente creatura acquatica, la balosa metà balena e metà medusa. Dalla balosa nacquero tante balusine che si adattarono a vivere felicemente nel nuovo mare. I conti della fiabestra, le tuareg. La fiabestra ama la musica perché è convinta che la storia si impari per lo più attraverso le canzoni e con i racconti. Quando può si sdraia sul terrazzo per prendere il sole e ascolta la musica dei ragni che suonano sulle foglie di basilico e rosmarino. Capita che a volte i gecchi assonnati si avvicinano lentamente ai gerani, ma poi litighano per poter salire per primi sulla cima di un enorme cactus. Un'estate non aveva voglia né di musica né di litigi di gecchi sui gerani, così decise di partire per il Mali per poter partecipare ad un interessante festival fiabestrico nel cuore del deserto. A bordo di un dromedario con i patteni raggiunse l'osi dove aveva appuntamento con le sue amiche tuareg. Bevero insieme il tè verde e provarono i pezzi rock and blues del loro repertorio. La fiabestra suonava la cora e improvvisava melodie mentre sedute intorno al fuoco avvolto da lenzuola colorate le sue amiche tuareg accompagnavano la musica con percussioni e danze. Mangiarono il nabulù e il tigategue cucinato dall'acqua caembe e risero fino all'alba prima di addormentarsi sotto il cielo stellato. La mattina seguente la fiabestra ripartì con l'indormentario e arrivò a scuola in orario. I conti della fiabestra 5 Akira Akira era un falegname giapponese che viveva a Kyoto su un albero di ciliegio. Durante la fioritura ospitava le lucce e le lerane nella sua casa bottega e spargeva pioggere lina dorata per infondere forza e tranquillità ai passanti. Da giovane aveva viaggiato in tutto il mondo e aveva conosciuto artigiani di maschere. Sapeva costruirne di ogni tipo e le regalava ai bambini affinché potessero esprimere con esse le loro più autentiche emozioni. In sela la sua bicicletta sulla quale aveva montato un teatrino di legno Akira si spostava di villaggio in villaggio per fare il fiabestro e annunciava il suo arrivo sbattendo uno contro l'altro due bastoncini. Si fermava per strada e leggeva piccole poesie imperfette scritte al volo servendosi di tavole di legno illustrate. I bambini lo ascoltavano incantati poi si sedevano intorno al teatrino e giocavano indossando le maschere che esaltavano il loro vero volto. Il tempo in sua compagnia trascorreva con molta calma e quando arrivava alla fine c'era sempre chi chiedeva di continuare. Akira sorrideva e diceva che se le cose fossero durate per sempre non avremmo avuto la possibilità di farne tesoro. Mentre chiudeva il teatrino Akira regalava fiori di ciliegio e haiku a tutti i presenti. Poi montava in sella e ritornava nella sua casa bottega sull'albero. I conti della fiabestra. 6. Il tiglio. Mentre riannodava le radici di un enorme tiglio spezzate dalla tempesta la fiabestra lo sentì piangere sommessamente. Non riesco a comunicare con la mia compagna. Tra poco sarà giugno e non potremo fiorire insieme. Dopo questi lamenti ripetuti più volte l'albero si era asciugato il naso con le foglie che gli avevano allungato i rami. La fiabestra era intervenuta per riparare il guasto ma con le parole provò una stretta al cuore. Dopo aver rassicurato il giovane tiglio con un lungo abbraccio si rimise all'opera. Consultò la mappa di tutte le radici connesse tra loro, identificò quelle della tiglia e ricamò tutto il giorno con il suo piccolo telaio. Quando giunse la sera adagiò sul terreno il lungo lenzuolo, soffiò sul ricamo a punto filza e una lunga striscia azzurra cominciò a srotolarsi davanti ai suoi piedi. Con un fischio chiamò i coleotteri che arrivarono correndo. Con i loro zampetti i coleotteri spinsero quel tappeto gigante fino a legare sotto terra le radici del tiglio e della tiglia e fecero una grande festa. Da allora, nel mese di giugno, il tiglio, la tiglia e i tigliolini ringraziano la fiabestra mandandole fino a casa fiori profumatissimi con la collaborazione solerte di piccioni viaggiatori. I conti della fiabestra 7. La Janara Durante il tirocino fiabestrico, la fiabestra fece visita alla Janara di Pantelleria per partecipare a uno stage sulla produzione di pozioni magiche. Portava con sé una lettera di presentazione scritta da sua zia, la Janara del Vesuvio, che consegnò alla sua collega appena raggiunse il porto con il monopattino galleggiante. Per tre giorni di fila andò a raccogliere la rugiada depositata sugli acini dell'uva zibibbo, che mescolava poi con la saliva delle lumache moscatine. Quei simpatici animaletti vivevano insieme alla vite dentro buche scavate nella roccia vulcanica e conoscevano tante storie che narrava loro il vento. Più raccontavano, più saliva producevano. La fiabestra le stava ad ascoltare al sorgere del sole, mentre era intente a gustare gli acini zibibi che le facevano solletico alla gola. Alle 6 e 15 le salutava con un inchino e tornava al dammoso. La Janara, al tramonto, assaggiava le pozioni delle tirocinanti e dava consigli sugli elementi ad aggiungere. L'ultimo giorno, la fiabestra ebbe un attacco di allergia esternutì più volte. Ad ogni hecci aggiungeva saliva la pozione e così le venne conferito il premio per la migliore pozione. Li conti della fiabestra. 8. La fatagatta fiammetta. Un giorno, a Procida, mentre era seduta sul molo per chiacchierare con i bambini e le bambine dell'isola, la fiabestra vide arrivare la fatagatta fiammetta, responsabile della colonia procidana, dove le fiabestre andavano in campeggio. Con una zattera di legno del cedro del Libano, rientrava da un salvataggio in mare aperto. Il principe gatto Paolino, suo promesso sposo, si era impigliato tra le cozze giganti, mentre tentava di catturarne una da utilizzare come vasca per il suo giardino. Da quando aveva conseguito il provetto di bagnina di salvataggio, fiammetta aveva a soccorso diversi gatti della colonia che amavano fare il bagno soprattutto con la luna piena. Quella volta scese di scato dalla zattera per tornare al bungalow dove avrebbe finito di preparare le polpette al sugo, ma scivolò con le scarpette di cristallo che portava in ogni occasione. La fiabestra la ferrò in tempo prima che cadesse. Per ringraziarla, la fatagatta offrì polpette e casatiello a tutti i bambini. Dopo il pranzo, annunciò di voler rimandare le nozze con il principe gatto fino a quando non sarebbe riuscito a badare a se stesso. Il principe gatto Paolino fu d'accordo e così partirono insieme per fare il giro del mondo a bordo di un fenicottero rosa. I conti della fiabestra. 9. Gazzella A Dakar, in Senegal, una ragazza di nome Gazzella aveva aperto un laboratorio dove insegnava le tecniche creative di bellezza e di moda. Lì arrivavano in tanti, da ogni parte del mondo, per imparare i segreti della stampa e della tintura di tessuti, della creazione di gioielli e delle acconciature con le trecce. Le atelier si trovava sotto un grande albero vicino al quale si trovava una piroga colorata che Gazzella aveva portato con sé quando aveva lasciato il suo villaggio sulle rive di un fiume. Da quel giorno era riuscita a dare lavoro ad altre persone, mescolando cipolle e carote, colori e ricamo, rafia e lino. Spesso organizzava giornate dedicate alle scuole fiabestriche durante le quali bambini e bambini potevano annodare tessuti, sovrapporre metalli, cuccire a mano e disegnare modelli. Alla fine del laboratorio Gazzella offriva loro dell'ottimo cibo e si intratteneva a chiacchierare a lungo narrando le storie dei suoi antenati portati con forza a lavorare nelle piantagioni di cotone. Gazzella amava la libertà ed era una maga dell'allegria. I suoi lunghi abiti coloratissimi, che strisciavano sulla terra rossa accompagnati dal tintennio di bracciali e collane, cantavano la gioia di vivere di chi li indossava.